Oltre 70 pacchi contenenti beni di prima necessità sono stati distribuiti ieri dal gruppo di protezione civile Papa Charlie, grazie anche al supporto delle diverse associazioni presenti a Pagani. Dai suoi frutti la sinergia con AgroSolidale, che ha riattivato il servizio di banco alimentare non solo nel comune Alfonsiano, ma anche a San Valentino Torio. Intanto la Papa Charlie ha attivato un servizio di ascolto telefonico per supportare famiglie, adolescenti ed anziani. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Dall'altro capo del telefono ci saranno i volontari Raffaele Dimma. C'è inoltre la possibilità di avere anche un colloquio con uno dei sei psicologi ed un sociologo che si sono resi disponibili gratuitamente. Il numero dedicato è 081-0194-570. Il gruppo di protezione civile ha inoltre diramato un avviso multilingue per i cittadini stranieri che vivono a Pagani. Quello che si evince in queste ore è quanto la rete faccia la differenza in questa situazione di emergenza. Alle altre associazioni già ad opera sul territorio si unisce anche Anna Ollus, presieduta da Giuseppe Barone, il quale ha manifestato la propria disponibilità e quella dei suoi operatori a far fronte all'emergenza. Intanto l'azienda consortile agro-solidale ha indetto un avviso pubblico in cui si invitano gli esercizi commerciali preposti alla vendita di generi di prima necessità presenti sul territorio di Pagani ed interessati a fornire alla popolazione beni di prima necessità mediante l'acquisizione di buone spesa a manifestare il proprio interesse a sottoscrivere una convenzione di accreditamento. La convenzione con gli esercizi commerciali sottoscrittori prevede che questi provvedano in cambio del buono spesa oltre che a fornire beni dove possibile anche alla loro consegna presso l'abitazione dei richiedenti per evitare lo spostamento delle persone pericoloso in termini di diffusione del contagio. Gli esercizi commerciali interessati ad aderire alla convenzione comunale dovranno presentare formale richiesta ad agro-solidale compilando il modulo scaricabile dal sito www.agrosolidale.it con le stanze di accreditamento che dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo agrosolidale-pec.it sulla base del modello di domanda scaricabile sul sito web entro il 7 aprile 2020. In queste ore inoltre sarà pubblicato sul sito di Agro Solidale anche il modulo per coloro che vorranno beneficiare dei buoni spesa da compilare entro il 9 aprile.